Sono 50.284 i cittadini residenti a San Severo alla data del 1 gennaio 2021 e quanto si evince dall'ultimo aggiornamento pubblicato sul sito dell'Istat in data 9 dicembre. L'Istat comunica che gli uomini sono 24.489 e le donne 25.795 per un totale complessivo di 50.284 unità. Il dato diffuso è di assoluto rilievo perché riporta San Severo oltre la soglia dei 50.000 abitanti, dichiara il sindaco Francesco Miglio, con un incremento di 788 cittadini residenti rispetto al 1 gennaio 2019, quando l'Istat contava sotto i 49.500 sanseveresi residenti. Mi corre l'obbligo di precisare che mentre in tutta Italia si registra un vistoso calo demografico di cittadini residenti, prosegue il sindaco Miglio, a San Severo viene certificato un incremento della popolazione. Peraltro il dato diffuso dall'Istat è ancora di forma in negativo rispetto a quello che risulta al nostro ufficio demografico, dove alla data del 17 novembre 2021 si registrano 51.109 cittadini residenti. E' quindi prevedibile, continua Miglio, che al prossimo rilevamento l'Istat certificherà un ulteriore incremento della popolazione residente a San Severo. Siamo felici di questo dato rilevato, in controtendenza nazionale San Severo guarda con fiducia al futuro. Ha concluso Miglio.